Comandante, buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato a Cagliari. Grazie. È un piacere per noi, è un onore essere qua oggi. Ecco, la domanda che le faccio è nuova tratta. Lei è un comandante da tre barre. Sì, è un primo ufficiale, anziano. Quindi, diciamo, lei fa solo voli nazionali? Sì, diciamo, la compagnia per il momento fa voli nazionali. Poi per l'estate ci saranno anche le lotte per la Grecia e per la Spagna, quindi i Micronos, i Pisa, quindi i Sgueresi, diciamo, che sono fuori dall'Italia per il momento così. Quindi una crescita importante anche per questa... Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che noi, per il proprio rumore, è essere qua a Cagliari per fare questa tratta da Forlì, dal continente. verso le isole. Poi, appunto, io come origini, avevo origini anche Sarda, mia madre. Ah, sì? La mia madre, sì, è Sarda, di Sassa, mia nonna, è il cognome Mirdis, è un parente noto, Pietro Paolo, il cattore Pietro Paolo Vierde. Quindi io la Sardegna la conosco molto bene. Ah, mi fa piacere. Sì, ecco, diciamo, comunque questo, allora, diciamo che sia di buon auspicio, soprattutto per la ripresa dell'economia. Certamente, ce l'auguriamo vivamente, ce l'auguriamo vivamente, e che Cagliari ci porti fortuna. È un augurio che facciamo tutti alla Sardegna, ovviamente, e anche alla nuova compagnia. Io la ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei.